La Cina è di moda in maniera pazzesca, ormai la Cina fa parte di tutta la realtà globale del nostro pianeta e storicamente è uscita da quella logica esclusivamente agricola e è diventata la più grande potenza industriale del mondo. Allora, siete stati in Cina dal 18 al 28 ottobre, una delegazione ufficiale con il sindaco, l'assessore Tirelli, Monica Banni, Francesco Frati, Pietro Cataldi, Andrea Paolini, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, sindaco, vogliamo un attimo ripercorrere queste giornate per avere così dei dettagli su tutto quello che è l'aspettativa senese e poi anche l'aspettativa di parte cinese. Sì, c'era anche il dottor Frosini, Andrea Frosini per TLS. È stata una delegazione che noi, devo dire, con la piena collaborazione di tutte le istituzioni che sono state citate abbiamo voluto fortemente perché noi crediamo nella collaborazione, nel coordinamento e in un lavoro di squadra. Quindi da questo punto di vista credo che perlomeno l'idea di andare tutti insieme, e devo dire che è stata accolta subito favorevolmente da tutti i soggetti che sono stati citati prima, è stata una cosa che è riuscita. Noi è il secondo anno che andiamo e abbiamo ritenuto che fare squadra in una realtà di un miliardo e 700 milioni di persone, come la Cina, in una provincia come l'Oianzu, che fa 80 milioni di abitanti, quindi più dell'Italia, fosse non solo una cosa utile ma assolutamente necessaria, anche perché quando tutti i nostri enti si uniscono per questa iniziativa in genere il risultato arriva. Abbiamo portato la Regione, intanto perché era importantissimo avere il Vice Presidente della Regione, che è stata molto collaborativa e molto carina, ma soprattutto perché noi facciamo parte della Regione Toscana e quindi il rapporto è necessariamente con la Regione. Abbiamo portato TLS, Toscana Life Sciences, perché è un centro di innovazione importante in Italia e in Europa e deve esserlo anche a livello globale, e devo dire che sono venuti con grande efficacia. Abbiamo portato le due università. Abbiamo portato anche, è stato firmato da parte dell'azienda ospedaliera universitaria, l'accordo per i medici, quindi c'erano anche i medici, e devo ringraziare Giovannini per questa sua grande disponibilità anche in questo senso. Quindi mi pare che al di là di quelle che possono essere le singole collocazioni, che per me hanno anche poco senso, politiche, c'è stata una grande collaborazione a tutti i livelli, a livello accademico, a livello politico, a livello di enti territoriali. Ecco, ma loro come ci vedono? Cioè, parlando di Siena, poi vanno nel mappamondo, nelle carte geografiche, vedono l'Italia, che chiaramente rispetto alla Cina è piccolissima, e poi si deve trovare Siena. Cioè, qual è un po' l'attenzione che possono avere nei nostri confronti? Ma intanto noi abbiamo mandato diversi filmati perché si rendessero un po' conto della realtà storica o culturale che trasuda da queste mura, da questa realtà cittadina. Questo è il primo dato, perché noi ci siamo sforzati di fargli vedere, soprattutto di fargli vedere, quanta cultura, quanta storia abbiamo alle spalle. Anche loro ce n'hanno tanta, per carità, ma diversa, diversa dalla nostra. Questo è il primo dato. Ma voglio raccontarvi un aneddoto, perché è molto buffo. La prima volta, l'anno scorso, quando ho incontrato il sindaco di Nantong, si parlava in generale, il deputy mayor di Nantong, che mi ha detto, ma noi siamo due città più o meno simili. Io gli ho detto, ma in che senso? Scusi, sì, siamo due città non grandissime per quanto riguarda il dimensionamento rispetto al paese-stato a cui ci riferiamo. Ma gli ho detto, scusi, ma voi quanti abitanti avete? Ma gli ho detto, 7 milioni e mezzo. E gli ho detto, noi 54 mila. Ma io volevo dire in proporzione, con un sorriso, mi ha detto il sindaco di Nantong. Ecco, questa è la misura delle proporzioni fra noi e la Cina. Appunto, una provincia come l'Ogansu, 80 milioni di abitanti. Come ci vedono? Per non eludere la domanda che, puntuale come sempre, Franco Masoni mi ha fatto. Ci vedono come un grande veicolo culturale, come un'esperienza particolare per loro, venire qua, studiare qua, studiare musica, come fanno all'Istituto Franci. Ci vedono come un'opportunità di scambio culturale molto forte. E anche sul piano sportivo. Ci chiedono i nostri allenatori, perché il nostro sport nazionale è il calcio e noi li abbiamo già mandati e sono entusiasti del modo con cui hanno lavorato. Ci chiedono di poter collaborare sempre di più con noi. L'Europa li piace, ma li piace soprattutto l'Europa piena di cultura, piena di civiltà. La civiltà senese li piace moltissimo. Ecco, poi, logicamente, penso l'hai anche raccontato, il palio, no? Sì, ma devo dirvi che il palio, come sa il nostro Franco, che il palio è qualcosa che si racconta male se non si vede, perché te sei stato un dirigente importante della tua contrada, sai bene che il palio o lo si vive o è difficile raccontarlo, perché è qualcosa che è bellissimo anche in televisione, però spesso si può equivocare. Il palio, io l'ho detto di venire a vederlo, di venire a comprenderlo, e non tanto i giorni del palio sono importantissimi, ma proprio per capire la dinamica di questa città unica al mondo. Certo, nei vari filmati c'era anche il palio, su questo non c'è dubbio. Per loro la ricchezza delle nostre monture, la ricchezza della nostra cultura, l'amore e l'attenzione che abbiamo, la lentezza con cui facciamo certe cose, perché soltanto con una riflessione, con una lentezza, possiamo fare quelle splendide monture, possiamo avere questa tradizione. Per loro ha un fascino incredibile. Senti, ma è uno scambio alla pari o c'è una parte che può guadagnare di più, ma non in termini monetari, chiaramente? Dunque, culturalmente è uno scambio alla pari, secondo me, perché noi possiamo dare tante cose, possiamo arricchirli di tanta storia europea, che come loro ci possono insegnare tante cose sulla loro cultura, sulla loro religione, su quello che fanno costantemente. Economicamente, chiaramente, loro sono un peso massimo. Ora, io parlo ovviamente come comune di Siena, quindi si sta parlando la bilancia, la stadera, per così dire, pesa moltissimo di più dalla parte loro. Ma poi però, in queste distanze, quando si parla di cultura, e noi ne abbiamo tanta, in qualche modo diminuiscono. Certo, a noi farebbe anche comodo, fa comodo anche gli aspetti squisitamente economici, non lo nascondo, oltre a quelli culturali, che sono di primaria importanza. L'aspetto economico, se decidessero di investire in questa città, a noi ci farebbe più che piacere. Certo, ha le condizioni di legge, senza per questo svilire quelle che sono le nostre capacità e le nostre già attive imprese. Per cui i settori che avete posto sul tavolo di analisi, poi parleremo anche degli accordi che avete esiglato, è l'aspetto universitario, per cui significa questa formula anche degli studenti che sono da diversi anni, che vengono nella nostra università a studiare, l'aspetto ospedaliero, l'aspetto poi sportivo, l'aspetto poi anche industriale. Ecco, per cui significa settori sulle quali, oltre che l'aspetto culturale, quello è un po' il principe. Per cui sono tutti settori dove noi possiamo accogliere, giusto? Possiamo accogliere, ma possiamo anche essere partner su un piano di parità. Allora, quelli che venivano citati ora sono settori importantissimi. La medicina, noi, il dottor Giovannini ha fatto un grandissimo lavoro, ha riterato un accordo importante con la loro medicina tradizionale. Va bene, quindi c'è uno scambio già in essere da anni fra i nostri medici e i medici di quella zona, che portano la loro cultura sulla medicina tradizionale e che imparano, apprendono anche quelle che sono le nostre tecniche e la nostra cultura scientifica. Quindi da questo punto di vista non possiamo che essere soddisfatti. Per quanto riguarda l'università, stamani c'era frati, purtroppo Cataldi ha avuto un problema familiare, ma noi vogliamo portare studenti, perché lo studente cinese notoriamente è uno studente molto educato, molto disponibile, molto disciplinato sotto questo profilo e vogliamo che conosca la nostra realtà. Anche questo fa arrivare dei numeri importanti, ma non è soltanto un problema numerico e un problema di tasse universitarie, è proprio un problema di interscambio culturale. Il mondo si sta aprendo e noi non possiamo rimanere fermi. Non lo siamo mai stati, nemmeno nel Medioevo, quando eravamo commercianti andavano in tutta Europa. Bene, noi bisogna tornare a quella mentalità e a quel modo di ragionare, non solo nel commercio, ma anche nell'accademia, nell'università. Quello che dobbiamo fare è dargli dei servizi adeguati. Stiamo lavorando sul piano operativo per dargli degli studentati che siano all'altezza delle loro esigenze. I servizi che noi li diamo dobbiamo dargli sul nostro territorio. E questo lo vogliamo fare. Non vogliamo svilire nessun rapporto con i comuni, con Termini e della provincia, ma vogliamo anche che abbiano la possibilità di avere studentati adeguati alle loro esigenze anche nel nostro comune. Ecco, te hai fatto nella tua vita un'esperienza anche di lavoro negli Stati Uniti come legale nel Badi Studi, credo a Boston se non ero. No, a Portland. A Portland. Ecco, per cui hai visto l'emisfero occidentale. Ora hai visto l'emisfero orientale. Possiamo dialogare questi due omisferi? O c'è delle forme di diversità sostanziali? E forse l'Europa può diventare il collegamento, può essere l'agente diplomatico che può un po' far coesistere le due realtà? E questa è una bella suggestione. Ora, non sarà Siena, ovviamente, in questo senso, perché ci sono altre più importanti istituzioni che lo possono fare. Però l'Europa potrebbe davvero essere un ponte, un traghettatore di due culture profondamente diverse. Io devo dire che vedo nella Cina, con tutte le diversità del caso, le tante potenzialità che ho visto negli anni Ottanta negli Stati Uniti. Era davvero l'impero americano in quel momento, anche se avevano preso qualche batosta in Vietnam, quindi c'era stata un po' una recrudescenza, lo Watergate, come ricorderai bene, però era ancora l'impero americano. Oggi possiamo dire che c'è l'impero cinese. Ovviamente l'Europa può essere, può essere davvero lo snodo, la cerniera, che fa dialogare due mondi profondamente diversi, in competizione soprattutto per le tecnologie moderne. Quindi questo è sicuro. Sono popolazioni molto diverse, ovviamente, perché l'America è un melting pot di tante razze, è la sublimazione di tutte le razze. La Cina, certamente ce ne sono tante, però comunque anche complice, diciamo, una chiusura, che c'è stata fino a poco tempo fa, nei confronti dell'esterno, è comunque più omogenea da questo punto di vista, anche se io ho visto una porzione minima del Paese, 80 milioni di abitanti, oltre un miliardo e 700 milioni. Però credo che in questo senso l'Europa può essere davvero una navetta, un traghetto fra due mondi che in qualche modo economicamente si sfidano. Questo ce lo auguriamo, e speriamo che l'Europa si svegli un attimo, perché in certi momenti è abbastanza seduta e si sta solo a guardare l'1%, il 3%, tutte le stagioni e giù qui, e si dovrebbe essere noi i fautori di un equilibrio mondiale. Torniamo al viaggio, sono stati seglati due accordi. Allora ci vuoi un attimo raccontare questi due accordi, che cosa consistono e quali saranno poi le forme operative? Allora, noi abbiamo seglato un accordo con il Museo di Nantong per quanto riguarda gli scambi interculturali, sia sul contemporaneo, sia ovviamente loro sono interessati alle nostre collezioni, alla nostra pittura dei primitivi, alla nostra pittura medievale, ma sono interessati anche a questa incrostazione culturale del Santa Maria della Scala, in cui c'è una sovrapposizione che arriva fino agli anni 70 da questo punto di vista. Questo è il primo dato. Il secondo dato è che stiamo finendo di perfezionare un accordo che già c'è, che l'abbiamo fatto noi l'anno scorso anno, che è il double degree con l'Istituto Rinaldo Franci, cioè col Conservatorio. Il double degree è il primo esempio di un accordo sino-italiano per quanto riguarda i diplomi, che vuol dire che chi studia a Siena o chi studia a Nantong possono spendere il diploma che prendono in Italia e in Cina. Quindi abbiamo la possibilità di avere i studenti cinesi che studiano qua, che possono spendere il diploma e prendono la Rinaldo Franci in Cina e viceversa. Quindi anche questo è un elemento culturale. La musica è un linguaggio senza parole, da questo punto di vista, a parte l'opera, ma insomma è un linguaggio senza parole che avvicina le persone. Questo è importantissimo. Devo ringraziare il presidente Miranda Bruggi per tutto il lavoro che ha fatto e tutto il consiglio dell'amministrazione e anche lo staff per il lavoro che hanno fatto. Noi abbiamo portato il double degree e ora c'è un accordo triennale in cui il comune di Nantong spenderà 100.000 euro in tre anni, distribuiti in tre anni, per consentire l'arrivo di nuovi studenti, già ci sono, ma nuovi studenti cinesi che spendano la loro capacità musicale su Siena per imparare e per accrescersi. Sport. Ecco, lo sport ci ha raccontato un po' questo aspetto degli allenatori. Ma io sono stato, avete visto anche un po' di foto, sono dei nostri, ne scito uno solo, ma non voglio dimenticare gli altri, Vivarelli, cioè sono entusiasti della capacità di insegnamento che hanno i nostri, ovviamente perché è lo sport nazionale il calcio, quindi noi abbiamo un know-how da questo punto di vista che poche nazioni hanno, anche in Europa voglio dire, proprio la scuola calcio, e questi ragazzini sono entusiasti della presenza di questi allenatori e sono persone serie che rappresentano anche la città in quel momento, questo lo voglio dire, quindi abbiamo fatto un lavoro anche con la federazione degli allenatori proprio per selezionare e per fare anche una turnazione, perché è giusto anche che questa esperienza venga distribuita su più soggetti, tutti capaci, che vadano a insegnare in Cina una bellissima esperienza, più di un mese, e quindi non c'è solo questo, per esempio ci sono alcuni atleti del Saltonalto che già si allenano a Siena al campo scuola e ci è stato richiesto proprio in questi giorni la squadra di Giavellotto deve venire a gareggiare in Europa e di allenarsi al campo scuola, quindi noi abbiamo già dato la disponibilità in questo senso per trovare gli orari nei confronti di questi atleti importanti e di grande livello che vogliono volentieri a venire a allenare a Siena. Ultima cosa è il gemellaggio. Ecco, questo gemellaggio che ha tanti aspetti. Sì, devo dire che come al solito l'intervistatore è sempre puntuale il gemellaggio per gli cinesi il gemellaggio è qualcosa di più che il gemellaggio abbiamo in Europa è davvero una forma di sister city proprio una forma di fratellanza e noi speriamo perché lo sapete non amo molto la politica dei proclami prima di averle fatte dovrebbe credo entro la metà di questo anno noi firmiamo l'accordo con il comune di Nantong proprio per gemellarci ci teniamo lo vogliamo fare siamo siamo consapevoli e questo ci porterà un sacco di vantaggi anche in termini di visti anche in termini anche di risorse economiche che possono venire declinate sul nostro territorio benvengano gli imprenditori cinesi nel rispetto degli imprenditori italiani ovviamente l'ultima cosa centri di innovazione centri di innovazione noi su TLS ci puntiamo sia per quanto riguarda le biotecnologie lo sanno tutti lo sa lo sa chi è venuto con noi due personaggi molto bravi e siamo stati in posti incredibili per me che vengo da un mondo più diciamo giuridico letterario quindi sono rimasto sballordito da vedere questi centri forse hanno anche un po' la funzione di farti vedere quanto sono bravi in certi momenti sale incredibili quindi la TLS biotecnologia intelligenza artificiale è una punta di lancia per questa città e noi contiamo con l'accordo con la Cina con le attenzioni del caso con le attenzioni del caso perché sappiamo i brevetti e questo tipo di rapporto bisogna molto delicato credo che potrà diventare anche un elemento un volano molto importante devo anche dire che quando i due il direttore e l'altro dirigente di TLS hanno cominciato a parlare e hanno fatto vedere il curriculum di Rappoli questi scienziati cinesi erano non dico sull'attenti ma insomma quindi un'altra eccellenza senese che si spende bene in tutto il mondo ultima battuta che messaggio dai a senesi su questa operazione della Cina il messaggio che do è che noi lavoriamo per i giovani lavoriamo per noi lavoriamo per i giovani lavoriamo per il futuro la Cina è il futuro è il futuro per tutti noi ci vuole attenzione rispetto ma anche determinazione non è una medaglia che si vuole mettere questa amministrazione è un'opportunità che si vuole dare alla città questo è il vero dato oggettivo non c'è da avere aspetti trionfalistici c'è da lavorare duro c'è da andare avanti su questa strada non è stata un viaggio una vacanza è stato un viaggio anche molto duro in termini di difficoltà di rapportarsi con una mentalità bella ma comunque molto distante dalla nostra ma l'obiettivo è quello di aprire opportunità di lavoro di imprenditoria di accademia per quanto riguarda la nostra città anche in un mondo che si sta evolvendo e che è oggi la prima economia mondiale grazie sindaco buon lavoro e buona Cina grazie a voi grazie a voi grazie a voi